Non siamo solo un supermercato con tanti bei prodotti, siamo anche tifosi, tifosi di persone coraggiosi che ogni giorno giocano la loro partita più importante, senza bisogno di stati, di interviste o di riflettore. Di chi sto parlando? Degli atleti del Sitting Volley. Loro sì che sono degli eroi. Per come affrontano la vita, per come impondono coraggio a chi dovrebbe darlo a loro. Anche per questo siamo diventati sostenitori della situazione Rodonda Volley, che ha tanti campioni come loro. Qualcuno è finito pure in nazionale. E chi l'avrebbe mai detto? Per ogni spesa fatta doniamo il 2% all'associazione Rodonda Volley. Va tutto in un salvadanaio come questo, però elettronico. La loro associazione adesso è chiusa, ma il nostro cuore per loro resta sempre aperto. Grazie. Grazie.